Quelle che state vedendo sono le immagini ballerine che stiamo realizzando dall'auto dovute alle numerose buche esistenti. Siamo dunque su ciò che è rimasto della strata provinciale che da vaccheria porta a San Leucio, una frazione del comune di Caserta nota per ragioni storiche e artistiche importanti. Infatti il sito reale insieme alla reggia di Caserta è stato riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità per le sue uniche maestose strutture costruite nella seconda metà del XVI secolo ma oggi, pensate, non si riesce invece a sistemare un tratto di strada che è poco più di un chilometro e che è diventato impercorribile e pericoloso e da anni è uno dei peggiori tratti di viabilità mentre invece dovrebbe rappresentare il bigliettino da visita per la città con la sua reggia vanvitelliana nota ed invidiata nel mondo. Abbiamo sentito anche il sindaco di Caserta Marino ed ecco che cosa ci ha detto. Allora sindaco volevamo cercare di capire il tratto di strada che dalla vaccheria scende per andare a Caserta, ormai pieno di buche, la gente continuamente protesta, che cosa si può fare? Allora noi in quella zona come competenza del comune da San Leucio fino ad arrivare in centro a Caserta sia per via Tenga sia per via Ale dei Platini sia per via per San Leucio abbiamo rifatto completamente i nostri aspetti. Purtroppo quella strada non è di nostra competenza e di competenza dell'ente provinciale ma tuttavia anche su questo proprio adesso stiamo partecipando a un bando del Piano Nazionale di Presa e Resilienza per riqualificare quell'area anche e anche lì caricarci noi il fatto della manutenzione. È comunque un motivo di sicurezza ma anche di decoro per la nostra città. Buone intenzioni dunque ma i tempi per risolvere il problema saranno ancora lunghi, ne siamo certi, ma noi ci ritorneremo. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Buone intenzioni dunque ma i tempi per la nostra città.it